Accuse, esposti, interrogatori, ombre, luci, appalti poco chiari, scandali. Sta succedendo di tutto all'interno di Palazzo Vermexio a Siracusa. Chi in procura, chi in un'aula di tribunale, chi in commissione antimafia e chi davanti la polizia giudiziaria. I politici sfilano e i cittadini assistono a questo teatrino poco dignitoso. Adesso spunta anche un esposto che porta la firma del consigliere nazionale dei Verdi, Giuseppe Patti, su presunte irregolarità alle comunali del 2013 che portarono all'elezione dell'attuale sindaco Giancarlo Garozzo del Partito Democratico. La lista a sostegno del primo cittadino, rinnoviamo Siracusa adesso, avrebbe qualcosa di poco chiaro nelle firme. Un caso che richiama alla mente ciò che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle a Palermo. Un nuovo scandalo politico, forse. Patti è chiaro, chiede la verifica della correttezza degli atti relativi alla presentazione delle liste elettorali alle comunali 2013. Sotto la lente di ingrandimento, le firme dei sottoscrittori. Ora serve capire se corrispondano alla loro reale volontà e se siano state depositate in originale. L'esposto di Patti arriva dopo un accesso agli atti e un'irrimediabile inclinazione dei rapporti proprio con il sindaco Garozzo.